buongiorno a tutti dovevamo essere dal vivo era programmata da un bel po di tempo questa questa formazione questo incontro formativo invece per motivi che ovviamente conoscete tutti siamo costretti a vederci a distanza e io ho scelto in accordo con con i prasi fare una preparare un seminario una sorta di introduzione sull'argomento che mi era stato assegnato registrando un video e fornendo poi le relative slide spero che la modalità risulti più più comoda per tutti in modo tale che ciascuno può fruirne nei tempi che che preferisce nelle modalità che preferisce e magari rivedersela con calma poi questo contenuto rimarrà anche disponibile online anche per il futuro quindi mi auguro che possa essere spunto per altri per altre occasioni non necessariamente non unicamente per l'incontro di oggi che dovrebbe essere appunto quello del del 18 di maggio 2020 io sto registrando ovviamente qualche giorno prima come ho già detto vi saluto tutti io sono l'avvocato simonali brandi vedete che c'è una sigla oltre a simonali brandi c'è anche un phd quindi ho un dottorato di ricerca in società dell'informazione dopo vi racconto qualcosa di più di me però volevo giusto fare un focus sul titolo del del mio del mio intervento mi hanno lasciato libertà nella scelta del titolo l'importante che fosse che ci fosse il l'accento sul tema della consapevolezza allora io ho trovato questo titolo l'utilizzo corretto di internet tra rispetto delle norme e consapevolezza quindi non sarà un intervento strettamente da giurista come vi spiegherò dopo dopo di me ci saranno dei giuristi molto più qualificati per fare appunto i giuristi veri e propri professori di diritto e appunto l'incontro questo mio questo mio contributo si inserisce all'interno dell'incontro formativo più ampio che è sentito che si intitola diritto penale e informatica le nuove frontiere della criminalità allora appunto dicevo mi presento io sono un avvocato che ha però un percorso un po particolare faccio anche vedete i loghi che ci sono là in alto sono quello a sinistra copyright italia è un mio progetto di divulgazione online di corsi e materiali vari sul tema del copyright del diritto d'autore in senso molto ampio e ray è invece il diciamo il marchio dello studio dello studio legale del network di legali con cui opero come appunto come avvocato come consulente faccio principalmente consulenza e formazione e vengo dal dal mondo della proprietà intellettuale quindi il l'ambito di oggi che invece è più squisitamente penalistico non mi è così noto però mi fa piacere poter potermi inserire comunque in questo in questo ambito parlando del tema della consapevolezza di cui invece mi sono spesso occupato come vi racconterò anche ho degli slide che prendono spunto anche un po dalla mia tesi di dottorato cioè mi ero occupato per il mio dottorato di ricerca che appunto come vi dicevo un dottorato in società dell'informazione quindi è un dottorato poco giuridico che adesso non esiste più era un dottorato abbastanza interessante multidisciplinare istituito presso l'università di milano bicocca e appunto io mi ero occupato del del diritto d'autore del rapporto tra società dell'informazione diritto d'autore copyright e anche approfondendo il tema della percezione della percezione sociale che si ha di questo argomento e del livello di consapevolezza poi faccio costantemente attività di formazione come quella a cui state adesso assistendo partecipando normalmente la faccio dal vivo la faccio trovandomi in aula ed è una cosa che faccio anche molto volentieri perché mi ha permesso questo lavoro di 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 andare in giro un po per l'italia per il nostro bellissimo paese cosa che in questo momento di di emergenza sanitaria non è possibile fare però vabbè abbiamo abbiamo siamo riusciti a supplire tranquillamente con con questi metodi con con la didattica a distanza con i video con le dirette sui miei social dopo vi farò vedere che ho sono molto attivo sui canali social una pagina facebook in cui appunto ho lanciato spesso delle 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 dirette a volte anche estemporane per discutere con i miei follower i miei utenti con gli utenti della pagina di degli argomenti a noi cari appunto oggi mi sono astenuto dal fare una da preparare una presentazione strettamente giuridica ma un po più ampio potremmo dire un po più a cavallo tra il sociologico e le scienze della comunicazione dopo vi spiego meglio però appunto gli argomenti qui trovate i miei riferimenti in rete avrei piacere appunto se qualcuno di voi volesse rimanere in contatto non tanto con me con la mia persona ma quanto con gli argomenti che io normalmente tratto e secondo me il canale migliore sono appunto i canali social però insomma per chi vuole dei contenuti per per approfondire per formarsi su questi temi principalmente appunto sui temi della proprietà intellettuale che è il tema il tema centrale di cui io normalmente mi occupo e direi che il profilo Slashare è il canale sicuramente più il canale più più fornito di contenuti no ci sono circa più di 150 presentazioni documenti ma principalmente presentazioni slide fra cui ci saranno anche queste slide e e lì potete appunto sfogliare trovare vari vari spunti di approfondimento sui temi del diritto d'autore del copyright digitale del copyright nella didattica ad esempio che è un tema che ultimamente sto trattando molto della privacy in generale del diritto delle nuove tecnologie come dicevo appunto io non ho mai trattato il tema del dei reati informatici se non ad un livello un po così un po generico però ho trattato spesso il tema della consapevolezza e spero di essere riuscito a trovare alcuni alcuni focus alcuni approfondimenti alcuni slanci verso anche quella materia che servono poi ai relatori che si occuperanno invece più nello specifico della parte penalistica per per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per per conoscere appunto questo questo mondo non so se siete anche attivi su su facebook e su twitter su facebook ho una pagina che appunto è un canale probabilmente forse più seguito poi ho anche twitter volendo c'è anche linkedin non potevo metterli tutti però era un modo per dirvi che chi volesse rimanere in contatto a tanti a tanti a tanti modi c'è anche un blog come vedete in cui ogni tanto mi esprimo diciamo che che racconto e esprimo qualche qualche opinione racconto qualche fatto ed esprimo qualche opinione sui temi appunto di mia di mia competenza questa presentazione come vi ho già anticipato vuole cercare di coprire queste questi due ambiti cioè parte da queste due anime no comprende queste due anime uno un po' un approccio da scienza della comunicazione l'altro invece un approccio più giuridico non strettamente penalistico come vedrete però appunto tratteremo temi temi giuridici iniziamo con iniziamo con il primo dei due dei due approcci con l'approccio della diciamo più da scienza della comunicazione e cerchiamo di analizzare e vedere insieme diciamo cosa mi ha portato la preparazione quali conclusioni sono arrivato nella preparazione e nella riflessione che ho fatto per questo incontro formativo e poi passeremo all'aspetto invece più strettamente giuridico il piano della scienza della comunicazione è il seguente ovvero la consapevolezza tecnologica è il punto di partenza nel senso che se parliamo di funzionamento di internet è chiaro che non possiamo prescindere da una conoscenza tecnica proprio del meccanismo di funzionamento della rete e questo è fondamentale nel senso che buona parte delle dell'ingenuità dei problemi che nascono tra gli utenti della rete spesso dipendono proprio da una mancanza di conoscenza del mezzo cioè proprio un aspetto di conoscenze informatiche, conoscenze di comunicazione che non sono alla portata di tutti e questo appunto diventa un problema nel momento in cui per un motivo o per l'altro e l'abbiamo visto proprio in questi ultimi mesi internet diventa un mezzo davvero a cui tutti sono davvero spinti, a cui tutti sono davvero chiamati e se all'utilizzo di questo mezzo sono chiamati anche soggetti che non hanno minimamente contezza di cosa sia internet di come funzioni, già quello può essere motivo e causa di problemi che poi hanno un reverbero anche sul piano giuridico come vedrete nella seconda parte. E quindi appunto come dicevo buona parte dei problemi nasce proprio da una mancanza di consapevolezza tecnologica, strettamente tecnologica. Ad esempio io ho fatto dei corsi in materia di anche di privacy e di sicurezza e lì quei corsi, quegli interventi formativi si risolvono spesso nel dare dei consigli che sono davvero molto molto basilari per un utente navigato di internet, per un utente formato di internet spesso quei consigli, non so, fai la password in un certo modo, non scrivere la password su un bigliettino che poi rimane appiccicato all'esterno del computer, non cliccare su link che ti vengono inviati dai mail bizzarre scritte in lingue strane, queste piccole cose. Però davvero ancora adesso, ancora adesso ho visto che giorno per giorno si affacciano nuovi utenti anche appartenenti a generazioni che per loro natura non sono nate con, per questioni proprio anagrafiche, non sono nate con internet e si sono dovute affacciare successivamente e purtroppo lì a volte c'è proprio un gap di competenza. Solo che, come spesso succede nei gruppi sociali, il problema portato da un soggetto che appunto non è informato si può rischiare di reverberarsi e di riflettersi su anche gli altri che invece sono quelli che dovrebbero avere gli anticorpi per questi problemi, perché ad esempio la diffusione dei virus, dei malware poi in qualche modo va a impattare anche sulla sicurezza delle reti, dei siti web, dei computer, anche dei soggetti che invece normalmente non sono portati a prendere, a farsi colpire da questi problemi, appunto da questi software malevoli che cercano di carpire informazioni o comunque di danneggiare i computer degli utenti. Quindi il primo punto di vista, il primo passo è proprio quello di iniziare ad affacciarsi a internet con una maggiore consapevolezza tecnologica, a volte basta davvero seguire qualche tutorial molto molto base a livello, non so, cito qualche nome famoso, Aranzulla, noto blogger che fa tutorial, ma anche Marco Camisani Calzolari che adesso compare anche in tv a Striscia Notizia, che fa dei servizi davvero molto 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 basici, ma che insomma sono l'ABC per potersi comportare correttamente, muoversi correttamente sulla rete con le nuove tecnologie. Ecco, corollario di questa mancazza e consapevolezza tecnologica su in generale il funzionamento di internet è proprio quello della non consapevolezza della potenza del mezzo. Sembra un gioco ad alcuni, non tutti capiscono quanto può essere potente il mezzo, quanto è rivoluzionario il mezzo. Io appunto il mio dottorato è in società dell'informazione perché appunto secondo molti teorici si è davvero aperta una nuova era, l'era dell'informazione, l'era del tutti connessi e l'abbiamo davvero visto in questi mesi di pandemia di quanto sarebbe stato diverso il mondo, cioè pensate la pandemia scoppiata solamente dieci anni fa, quindi non secoli fa, anche solamente una decina di anni fa, senza le reti veloci, senza il cellulare di oggi, senza il computer più o meno in tutte le case. Pensate come sarebbe stato molto molto diverso è molto molto più pesante e molto più impattante dal punto di vista psicologico, sociale e umano e lavorativo anche perché appunto molti stanno lavorando tranquillamente perché hanno una connessione internet, se no sarebbe stato davvero un dramma. Quindi non tutti però hanno consapevolezza della potenza, del livello di rivoluzione che è riuscito a portare l'avvento di internet e delle tecnologie digitali in generale e questo diventa abbastanza emblematico nel mondo dei social media, nel senso che sui social media vediamo la diffusione, cioè l'utilizzo di internet a volte in un modo stupido, in un modo poco costruttivo e coloro che diffondono informazioni, ad esempio le classiche bufale, fake news, non capiscono quanto anche un singolo utente che magari ha qualche follower, un centinaio di amici, di follower sul suo profilo, facebook, instagram che sia o twitter non capisce quanto anche le sue scelte di singolo individuo possano poi attraverso il meccanismo della cosiddetta viralità dei social media impattare su molte persone e quindi ciascuno di noi deve fare un esame di coscienza e fare la sua parte per rendere internet e soprattutto i social media un posto migliore, un posto in cui circolano notizie verificate, circolano notizie corrette, aggiornate in cui non vengono colpiti soggetti particolari, non vengono colpite persone particolari e via dicendo e appunto ripeto se ci fosse maggiore consapevolezza sulla potenza del mezzo non è un gioco molta gente pensa ma sì stavo sui social, ma sì dai mi stavo svagando, ho pubblicato questa cosa ma sì fa niente anche se è una bufala che male può fare e in realtà può fare male, nel senso che se tutti ragionano così, provate a pensare un gruppo di dieci persone, tutti pensano che quella bufala, ma sì anche se non sono sicuro anche se mi puzza di bufala, so che c'è qualcosa che non va, però tanto sto giochicchiando sto semplicemente passando il tempo, io intanto la diffondo, dieci per dieci per dieci intanto si passano questa informazione e comincia a lievitare l'abbiamo visto anche lì, questa pandemia all'inizio, soprattutto nei primi giorni è stato un delirio di notizie che sfuggivano al controllo, poi ci hanno messo un tampone soprattutto un po' di campagna di sensibilizzazione sul tema, ha fatto sì che gli utenti fossero un pelino più attenti, però ecco questo è già abbastanza un sintomo molto molto evidente la libertà di espressione per tutti è l'aspetto più innovativo di internet e più idealistico potremmo dire di internet, internet è diventato davvero il mezzo di comunicazione che ha permesso a tutti di esprimersi in qualche modo, di parlare, cioè la libertà di espressione è un diritto che è garantito in buona parte delle costituzioni dei paesi democratici, buona parte perché non tutte è garantito dalle convenzioni internazionali, dalle carte dei diritti dell'uomo, via dicendo però appunto prima si doveva passare attraverso, cioè comunque per esprimersi e per arrivare a un grande pubblico si doveva passare attraverso dei circuiti più o meno controllati la stampa, l'editoria, la tv, la radio, con internet davvero basta avere una connessione alla rete basta avere un aggeggio che come potete vedere è alla portata di tutti, costa poche decine di euro ormai, un cellulare da 80 euro ha comunque una connessione 4G e tutte le funzioni per poter accedere ai social e a non so crearsi una pagina da qualche parte e quindi ci permette a chiunque davvero di essere ascoltato dal mondo potenzialmente, oppure la libertà di espressione io chiedo in questa slide è per tutti o forse per troppi? Ovviamente con questo per troppi si rischia poi di diventare, come dire, eccedere anche noi in derive antidemocratiche e autoritarie, allora chi è che decide se davvero alcuni possono o non hanno titolo per parlare, per esprimersi sulla rete? In realtà nessuno, la rete è un mezzo di comunicazione in teoria dove siamo tutti dei pari, chiunque ha un accesso alla rete può, diciamo ha quelle minime competenze che gli richiedono per pubblicare un contenuto, appunto può esprimersi, può dire la sua, può esprimersi, può essere un'espressione di carattere artistico come un brano musicale cantato o la lettura di un proprio brano, di un proprio testo poetico che poi può essere apprezzato dal pubblico deriso, questa è una questione di gusti, però poi l'espressione può essere anche di carattere appunto informativo e pseudo giornalistico e quindi andarsi a sovrapporre con il classico, con i canali più tradizionali dell'informazione. Questo da un lato è un bene perché ha portato la possibilità di, ad esempio dei blogger, di creare informazione che parte dal basso, non controllata, non censurata, vi diciamo che questo è assolutamente positivo, però a un certo punto, quando abbiamo visto che davvero il mezzo di comunicazione è entrato nelle mani di tutti, o di quasi tutti, si è notato il rovescio della medaglia, il fatto che non tutti a volte hanno, come dire, hanno il buon senso di utilizzare questo mezzo che abbiamo detto, essere molto molto potente per cose utili e intelligenti e lo vedremo appunto nella parte finale e sicuramente ne parleranno meglio gli altri redattori coinvolti in questa iniziativa che vi racconteranno perché sono i reati legati alla comunicazione online, alla rete. Però insomma è famoso in questo argomento, su questo argomento è famosa la dichiarazione che è stata fatta da Umberto Eco durante un'intervista nel 2015, in cui probabilmente è quasi come battuta, quasi come provocazione, però ha detto una cosa che ovviamente detta da un personaggio di livello come lui, ha avuto una certa risonanza che è quella, la famosa frase secondo cui i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli, questa è una frase appunto del 2015, quindi erano anni in cui insomma i social media avevano già sviluppato e già mostrato il loro impatto, il loro potere e questo è interessante perché poi Umberto Eco incalzato dal giornalista spiega che non è che gli imbecilli non ci fossero prima, è che gli imbecilli prima per esprimersi lo potevano fare, avevano pochi canali, nel senso che lo facevano al bar, lo facevano in famiglia, lo facevano tra gli amici ma poi il loro messaggio veniva subito e presto isolato e qualificato come un messaggio poco utile e appunto imbecille. Internet fa purtroppo invece da cassa di risonanza anche all'imbecillità, nel senso che anche quando un contenuto è palesemente distorto, palesemente scorretto, palesemente illegale, è palesemente falso, crea traffico, internet non ragiona sulla qualità, ragiona molto più sulla quantità, ergo succede quello, succede che a volte anche notizie false solo perché vanno a toccare qualche corda delicata dell'essere umano tipo l'indignazione, il non ce lo dicono, ci vogliono tenere qualcosa di nascosto, guarda che scandalo, guarda che schifo questa cosa, è una leva abbastanza, una corda molto delicata dell'essere umano e se appunto questo va a toccare persone che non hanno la competenza per distinguere il buono dal cattivo, per distinguere la fonte affidabile a quella artefatta e volutamente distorta, a finire che la diffondano, che continuano ad amplificare questo contenuto non corretto e poco utile e addirittura controproducente, una cosa che nel mondo reale, nel mondo di prima era molto più difficile fare, perché appunto l'imbecille che voleva dire la sua idiozia la poteva dire appunto a un certo nucleo di persone, i quali probabilmente lo conoscevano già, non poteva presentarsi come un non imbecille perché era appunto già noto in una cerca di persone, cosa che invece si può fare su internet, su internet è più facile spacciarsi per quello che non si è, no? Gente che si spaccia con titoli di studio, con ruoli lavorativi, fotografie false, quindi sembrano persone diverse da quelle che sono in realtà, nel mondo reale è più difficile e poi per arrivare al grande pubblico l'imbecille doveva a un certo punto passare dal filtro del vecchio mondo della comunicazione, la comunicazione mediata, la comunicazione in cui c'era un emittente e un ricevente e quindi c'erano dei soggetti che erano qualificati a portare dall'emittente al ricevente il contenuto, quindi gli organi di stampa, le case editrici, le tv, le radio, i vecchi media. Internet invece no, internet non lo fa questo filtro, internet ha degli intermediari come vedremo che sono però degli intermediari più asettici e i quali forniscono solamente la piattaforma e il luogo virtuale in cui esprimersi, ma poi lasciano che chiunque dica la sua, che ripeto da un lato è un bene perché è libertà di esposizione vera, dall'altro permette purtroppo anche agli imbecilli di esprimersi e non solo, permette loro di trovare altri imbecilli, questo è l'effetto dei social media, la famosa bolla dei social media permette agli imbecilli di trovarsi tra loro nei gruppi, nelle community, di seguirsi tra loro e quindi di autoconfermare la loro imbecillità, cioè mentre l'imbecille del mondo reale viene, prima o poi trova qualcuno che gli dice che è un imbecille e quindi di smettere di dire quella cosa, di smettere di credere in quella cosa perché tanto è falsa, tanto è stupida e quindi sei un imbecille e lui a un certo punto fa un bagno di realismo e si deve guardare allo specchio, sui social media attraverso appunto il meccanismo un po' perverso della bolla dei social media, l'imbecille tende a circondarsi di altri imbecilli che sono imbecilli di quanto lui, addirittura più di lui e quindi fermenta questa imbecillità, questa idiozia e quindi non solo l'imbecille viene confermata la sua imbecillità ma passa questa notizia falsa, questo contenuto idiota ad altri imbecilli i quali pensano a loro volta che arrivando da uno come loro sia cosa buona e diffondere, quindi è un meccanismo come vedete non virtuoso ma sicuramente vizioso che è molto difficile, molto difficile interrompere e disinnescare. Ce ne siamo resi, vedete il fatto che Umberto Eco questa cosa l'ha vedetta nel 2015 e non nel 2009, non è un caso, i social media esistevano già prima, Facebook esisteva già dai primi anni del 2000, metà degli anni 2000, Twitter anche, però nel 2015 abbiamo cominciato a notare questa cosa, abbiamo iniziato anche a notare quanto internet e questo meccanismo perverso possa incidere sull'opinione pubblica e anche a livello politico. Abbiamo visto quanto i politici che hanno vinto le elezioni negli ultimi 3-4 anni, non mi fate dire quali, però anche in tutti i paesi del mondo, quindi non sto riferendo alla politica italiana, lo hanno fatto proprio attraverso anche questo gioco, forzando meccanismi di fake news, di diffusione di informazioni che ovviamente erano pilotate, facendo leva sul fatto che l'imbecille è più facilmente impressionabile, più facilmente attirabile in questa rete, no? E questo quindi è un problema, questo va risolto e purtroppo ecco, io che sono un grande paladino, se permettetemi, fautore della libertà d'espressione, ho dovuto negli ultimi anni neanche io, come dire, rifletterci e rivedere un po' la mia posizione in virtù appunto di questa dichiarazione di eco, ma che non è solo quella di eco, cioè tanti intellettuali l'hanno detto, alcuni stati tacciati di essere retrogradi, di essere ottusi, non aperti alle nuove forme di comunicazione, altri hanno detto adesso, ma prima o poi qualcuno lo doveva dire, per fortuna che l'ha detto Umberto Eco, adesso possiamo dirlo anche noi, in sostanza. E sono sicuro che anche tra di voi, mentre raccontavo queste cose, mentre facevo queste riflessioni, qualcuno avrà detto, ah caspita, però è vero, altri mi avranno detto, avranno pensato che sono un bacchettone, però alcuni avranno detto, caspita sì, un po' è vero, purtroppo questa cosa è un po' sfuggita di mano. Ecco, quando vi parlavo dei media, dei media classici tradizionali, quindi la radio, la tv, la stampa, che hanno questo ruolo di essere intermediari della comunicazione, intermediari di un contenuto e che quindi ovviamente fanno un minimo di controllo, no? Cioè pubblicare una notizia idiota, un contenuto idiota su un giornale è più difficile perché a un certo punto c'è una redazione, c'è un direttore, c'è qualcuno che prende in mano questo articolo e dice ma scusate ragazzi, ma sta roba quella dove arriva? E quindi decide di non pubblicarla oppure decide di correggerla, di intervenire, di chiamare l'autore e farlo ragionare. Su internet questa intermediazione, come abbiamo detto, non c'è, però siamo sicuri che internet sia davvero il mezzo di comunicazione disintermediato per eccellenza, cioè siamo davvero sicuri che sia totalmente disintermediato. Anche lì bisogna essere un po' più attenti e non troppo semplicistici nel ragionare perché è facile dire, internet è il mezzo di comunicazione disintermediato, è in teoria vero nel momento in cui uno ha le competenze per gestire un server e collegarlo alla rete. Allora sì, se io utente ho queste minime competenze per prendermi un server costruirmi un mio sito, metterci sopra i miei contenuti, utilizzarlo per esprimere le mie idee anche bizzarre, anche imbecilli o addirittura folle e pericolose e metto questo server collegato alla rete e da lì in poi davvero non c'è un'intermediazione perché sono io che ho padronanza anche dell'aspetto tecnologico che tiene in piedi questo contenuto. Nel momento in cui invece quello che fanno penso il 99% degli utenti di internet sono addirittura di più, 99 virgola, invece io normalmente l'utente si serve di piattaforme preconfezionate, create da qualcuno che appunto mette a disposizione già un sito internet che ha già tutte le sue belle funzionalità avviate e rodate e io utente non devo far altro che crearmi il cosiddetto account o profilo su una di queste piattaforme e da lì in poi affacciarmi al mondo di internet e cominciare a pubblicare i miei contenuti ecco che allora non sono più in una situazione di vera disintermediazione, di vera assenza di intermediario perché già il fornitore di quella piattaforma è per me un intermediario rappresenta un intermediario, è un intermediario che sta più nascosto rispetto al canale tv o alla redazione di un giornale, capite? Ma è comunque un intermediario, cioè pubblicare un video su youtube fa sì che io sia ospite, il mio contenuto è ospite dei server di google e ospite di un sito che ha delle funzionalità, ha un sistema di commenti, ha un sistema di social di gente che segue o non segue un certo canale, ha un sistema di controllo, anche se è diverso dal sistema di controllo di una redazione o di un canale televisivo, ha un sistema di controllo ex post, il controllo che viene fatto su internet e su queste piattaforme è quasi sempre un controllo ex post tranne in alcuni casi, cioè se io provo a caricare un video pornografico su youtube, youtube ha un software che in automatico riconosce che lì c'è della pornografia e non me lo pubblica nemmeno, ok? Però tendenzialmente le piattaforme, queste piattaforme social o di condivisione di contenuti rimangono assettiche rispetto al contenuto, sono service provider vengono chiamati, non content provider. La differenza tra service provider e content provider è un altro di quegli elementi, vedete che è legato alla prima slide che vi ho mostrato, si è fatto la consapevolezza del funzionamento di questo media, cioè essere su youtube non è proprio tecnicamente non è identico ad avere un proprio sito di cui si gestisce proprio il server e gli indirizzi DNS e il dominio internet in cui vado a mettere i miei video, perché? Perché lì sul server che gestisco io i video sono lì e sono solo io a poter decidere di toglierli o meno, se sono su youtube invece c'è un controllo di terzi che è quello che è il soggetto che gestisce la piattaforma e il quale ogni tanto dietro segnalazione può intervenire e rimuovere o oscurare un contenuto. Questo è quello che succede, quindi è una disintermediazione un po' più velata, un'intermediazione che funziona in modo diverso, ex post e non ex ante, ma c'è comunque un'intermediazione, quindi siamo in un mondo di internet per come si è sviluppato, all'inizio era un internet senza questi intermediari, perché appunto l'internet degli anni 90 era un internet in cui per essere utilizzato doveva appunto avere delle competenze informatiche per poter accedere e mettere su un sito o su un server. quando è diventato un web 2.0 più facile, più vicino all'utente medio, abbiamo abdicato, abbiamo rinunciato un po' al potere di controllare i nostri contenuti, l'abbiamo delegato a questi gestori di piattaforme, i cosiddetti service provider, service provider sarebbe letteralmente fornitori del servizio, che sono diventati nuovi intermediari, quindi sono velati, sembrano più nascosti, ma ci sono, e il rovescio della medaglia, non da poco, di questa nuova forma di intermediazione è che è tutta concentrata in pochi soggetti, mentre di redazioni di giornali ce ne sono a N.000. Io voglio pubblicare un articolo che dice cose scomode da un punto di vista politico, lo mando a 10 giornali, 9 mi diranno di no, però ci sarà magari il giornale che invece è allineato con il mio pensiero politico e quindi deciderà di pubblicare l'articolo, anche se è un articolo particolarmente bizzarro, provocatorio e non molto sensato. E quindi per la legge dei grandi numeri, prima o poi, bussando a 100 porte, troverò il giornale o la tv che manda quel contenuto. Sui social invece le piattaforme sono, ormai quelle mainstream sono poche, cioè nel senso che tutti sono, per un meccanismo più tipicamente capitalistico, si accentrano, e quindi Facebook ad esempio era nato come una cosa nuova, è diventato adesso il fulcro dei social media, perché Facebook, come sapete, è titolare anche di Instagram, è titolare anche di WhatsApp, quindi buona parte della comunicazione social avviene attraverso strumenti, attraverso piattaforme che sono nelle mani di un unico soggetto commerciale, che è un soggetto commerciale che tra l'altro sta in California, e quindi stiamo concentrando ricchezza, stiamo concentrando potere e controllo all'interno di pochi soggetti, soggetti che sono tendenzialmente società commerciali, quindi che devono rendere conto non tanto alla società, ma devono rendere conto ai loro azionisti, ai loro finanziatori, e quindi è un modello squisitamente capitalistico, quindi internet per nulla purtroppo, al contrario dell'ispirazione idealistica con cui era nata, probabilmente negli anni 70-80, la sua concessione originaria ha proprio nulla di hippie e di idealista democratico, perché adesso è diventata soprattutto negli ultimi anni l'espressione piena del capitalismo, per cui si sono concentrati gli investimenti economici, quindi le risorse economiche, in gruppi di potere molto molto ristretti, che hanno in mano più o meno 4 o 5 grossi fette di questo mercato e se lo dividono, quindi basta fare i nomi, uno è Facebook, l'abbiamo già fatto, l'altro è Apple, l'altro è Google, e poi ci sono quelli dell'area cinese-russa, che sono un po' diversi, ma che comunque agiscono su popolazioni di 2 miliardi di persone, comunque, no? Cioè i social dell'area asiatica, e quindi alla fine, vedete, è comunque una forma di capitalismo anche quella, e ripeto, abbiamo partito dal concetto della disintermediazione che è vera, ma non deve essere presa così ingenuamente come una totale disintermediazione, ma un mondo in cui gli intermediari si sono fatti più velati, sono andati un po' sulle retrovie e lasciano maggiore spazio all'attività autonoma degli utenti, quindi intervenendo ex post e non intervenendo ex ante, questa è la differenza di fondo. Ecco, la facilità d'uso è quello che, come dire, abbiamo già visto, abbiamo già accennato quando abbiamo parlato del passaggio al web 2.0, no? È arrivato un momento in cui, per permettere a un numero sempre maggiore di utenti di affacciarsi alla rete, che alcuni soggetti si sono dati da fare per creare piattaforme sempre più user friendly, sempre più facili da usare. Una facilità d'uso, una spinta verso la facilità d'uso che non è solo di carattere, cioè non è solo legata al web, ma è una facilità d'uso legata anche ai dispositivi, no? Cioè, i cellulari di oggi sono pensati per essere utilizzabili davvero da una popolazione molto, molto ampia, anche io ho i genitori anziani che però utilizzano tranquillamente, non lo stesso modo con cui li uso io, però utilizzano tranquillamente i cellulari, i tablet, fanno foto, fanno videochiamate, l'abbiamo visto un po' più in questi ultimi mesi. Questa è una cosa buona, assolutamente, no? Il fatto che la tecnologia diventa sempre più usabile, sempre più facile, e quindi alla portata di sempre maggiori utenti. È un'arma a doppio taglio, perché dall'altro lato, però, purtroppo, abitua anche gli utenti ad un poco sforzo intellettuale, cioè più uno strumento è facile da usare e più il suo utente si abitua ad una cosa facile e quindi non si sforza a cercare di capire come funziona davvero, no? È un po' la critica che viene fatta ai computer di Apple. Ci sono cascato in pieno, io sono un grande fan dell'open source, però ho un computer Linux fisso, però poi sul laptop ho abbassato la testa e ho accettato di comprare un Macintosh e mi è cambiata la vita. Inutile nascondersi, mi è cambiata meglio, perché le cose erano più facili, erano più immediate, il computer ti viene incontro, ti propone cose, i software che sono già preinstallati, c'è più o meno tutto quello che ti serve, e questo però ti, no, un po' atrofizza. Avere un sistema operativo invece un po' più tecnico, un po' più legnoso, con cui devi interagire, con cui hai possibilità di fare maggiore controllo dei settaggi, ti spinge ovviamente a una maggiore consapevolezza tecnica, quindi torniamo al punto di partenza. Non sapere come funziona lo strumento ti dà maggiore potere e ti dà maggiore controllo. Dall'altro lato, però ecco, rovescio la medaglia il fatto che invece una facilità d'uso permette a più utenti e quindi è più inclusivo per gli utenti che non hanno per loro natura molta predisposizione a comprendere gli aspetti tecnici e a sforzarsi. Non si sa chi ha ragione, nel senso che da un lato è un bene che la tecnologia sia arrivata ad un numero maggiore di utenti, assolutamente non me la sentirei di dire che è un male, però è anche vero che questo un po' atrofizza l'intelletto umano normalmente nel suo uso, nell'uso della tecnologia. Grazie.